Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove voglio parlarvi di uno strumento che ci permetterà di vivere la montagna invernale in sicurezza permettendoci di continuare a correre e fare le nostre escursioni anche su ambiente innevato. Lo strumento di cui vi voglio parlare come leggete quassù è il rampone o i ramponi perché vanno sempre in coppia. Il trail runner già conosce questo strumento, questo oggetto. In particolare conosce il ramponcino a trail che è uno strumento molto comodo che sta anche nello zainetto e in alcune gare alpine viene anche richiesto come materiale obbligatorio. Si infila sopra la scarpa con questa struttura in lattice molto molto morbido ed elastico e ha una struttura sotto con questa catenella dove si può trovare al centro della pianta una placca in acciaio con dei denti di circa un centimetro e un'altra placchetta in acciaio nella parte del tallone anch'essa con dei denti in acciaio. La parte anteriore ovviamente serve per la spinta, la parte posteriore serve per frenare, per dare stabilità quando si è in discesa. Sono adatti a percorsi moderatamente innevati con brevi tratti ghiacciati, pendenze minime perché comunque la lunghezza delle punte non permette di fare così tanta tanta presa ecco non si va a fare alpinismo con questo tipo di con questo tipo di ramponcini. Sono molto comodi perché permettono appunto di correre su nel battuta e su brevi tratti anche ghiacciati e dopo quando non ci servono più in una decina di secondi si possono togliere e mettere nello zaino. Come vedete sono ripiegabili, hanno di solito un loro sacchettino, si richiudono su se stessi, si mettono nello zaino e si corre normalmente con le nostre scarpette. Anche perché correre con questi ramponcini su superfici non innevate possono su questa placca di metallo comunque danno fastidio alla pianta del piede perché poi lo si sente, è molto dura e lo si sente sul metatarso. Un altro invece, quando le condizioni di neve iniziano ad essere un po' più importanti, quindi neve molto soffice o tratti in quota, tratti dove possono esserci delle zone ghiacciate si iniziano ad utilizzare dei ramponi molto simili a quelli per alpinismo. Come vedete le punte hanno delle punte molto più lunghe che permettono di fare presa molto bene nella neve. Possono essere utilizzate anche in pendenze importanti grazie alle punte anteriori. In discesa con questo tipo di rampone permettono di fare un'ottima presa. Insomma, in alta montagna, per tratti dove c'è molta neve, dove ci sono pendenze importanti, questo tipo di rampone diventa uno strumento indispensabile per la nostra sicurezza. Questi hanno una particolarità. Sono ramponi in alluminio, quindi molto leggeri, che possono essere utilizzati appunto per lo sky running. Non sono molto indicati per l'escursionismo, perché l'alluminio comunque è abbastanza fragile come materiale, infatti è consigliato comunque utilizzarli su roccia, ad esempio su ferrate, ma vanno molto bene sulla neve e su piccoli tratti ghiacciati. Insomma, poi le punte in alluminio non è che si possono affilare, non è che si possono affilare come quelli in acciaio, quindi finché vengono utilizzati per il running vanno benissimo, però ecco, non utilizzateli per scalare o per tratti dove, ad esempio, ci siano tratti di roccia perché rischiate di romperli. Però di buono hanno che sono molto leggeri, sono portabili, controllate anche sempre l'attacco perché per essere utilizzati sulle scarpe da running e su scarponcini normali a trekking devono avere un attacco universale e non attacco automatico o semi-automatico. Come vedete sono un po' più grandi e voluminosi da mettere in uno zaino rispetto rispetto al ramponcino a trail, però offrono più sicurezza e vanno utilizzati nei contesti dove effettivamente sono richiesti. Per ambienti invece più, diciamo, spinti, dove diventa più escursione, diventa più alpinismo rispetto alla corsa o allo sky running, andiamo ad usare i classici ramponi in acciaio e anche, si cambia il tipo di calzatura, si utilizza lo scarpone, lo scarpone che deve avere una pianta comunque rigida per permettere anche di scalare in situazioni di dipendenza molto elevata, andando a piantare il rampone con le sue punte principali, la rigidità dello scarpone permette di non piegare il piede, di mantenere salda, ecco, questo è grosso rispetto alle scarpe, permette di rimanere un appoggio saldo sulla parete che stiamo salendo. Come vedete la differenza tra i ramponi di prima e questi è che hanno un attacco semi-automatico che fa leva solo su questo punto dello scarpone, questo scarpone è particolare perché è detto ramponabile, cioè che possono, ha proprio le misure e le forme adatte per questo tipo di rampone. Quelli non ramponabili invece dovranno utilizzare ramponi come questi, standard, senza attacchi particolari. Il rampone in acciaio è più pesante, però allo stesso tempo è molto più robusto, possono essere riaffilate le punte, se si dovessero spanare, ad esempio, su roccia. Vanno bene per canoloni, per tratti molto inlevati, tratti ghiacciai e possono, come dicevo prima, essere utilizzati anche su roccia, ad esempio, su ferrate o su brevi tratti di alpinismo, diciamo. Questa è la struttura più rigida di questo tipo di ramponi, come vedete hanno un attacco posteriore per gli scarponi predisposti per questo tipo di attacco, sono più pesanti di quelli in alluminio, pesano circa il doppio, sono più robusti e vengono utilizzati sulle escursioni, sulle scalate, su uscite un po' più estreme, un po' più tecniche. Quindi, ricapitolando, ramponcini da trail per percorsi leggermente innevati, su brevi tratti ghiacciati e su pendenze non necessariamente elevate. Ramponi in alluminio, sempre per lo skyrunning, su tratti comunque moderatamente e abbondantemente innevati, su pendenze anche sostenute e un po' meno adatti ai tratti ghiacciati. Sono molto leggeri e possono essere utilizzati anche per la corsa e anche per le escursioni facili. Ramponi in acciaio, molto più strutturati, molto più resistenti, permettono di essere utilizzati dove vi è molta neve e anche su tratti ghiacciati. Adesso, questi in particolare non sono proprio da ghiacciaio o tratti di ghiaccio, perché dovrebbero avere un altro tipo di struttura delle punte, però sulla neve e su tratti vetrati vanno benissimo. Vengono utilizzati prevalentemente sugli scarponi, sui scarponi da montagna, con predisposizione per l'attacco dei ramponi e possono permetterci di affrontare le nostre escursioni con sicurezza. Questo è un breve, diciamo, bignami sull'uso dei ramponi per noi trailrunner. Non hanno niente a che fare, non è una guida per l'alpinista, però per chi corre in montagna e vuole iniziare a provare a correre anche o camminare sulla montagna innevata, sulla montagna invernale, questo video può essere un buono spunto per magari anche approfondire e provare questo tipo di attività. Ciao a tutti!